Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dove potete trovare idee per ricette alti, veloci e facili. Se vi piacciono i video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Oggi vi faccio vedere come ho preparato questa buonissima torta alla ricotta che si scioglie in bocca. Io l'ho decorata con la crema Lotus e anche i biscotti della Lotus, ma essendo una torta da gusto molto neutro va benissimo con qualsiasi tipo di crema al cioccolato di vario genere oppure anche va benissimo con la frutta. qualsiasi gusto vi possa piacere. Inizio sbattendo 4 uova in una ciotola e le monto con lo sbattitore. Aggiungo l'eritrituolo in polvere e continuo a montare. In descrizione vi lascio il link dove acquisto l'eritrituolo, questo a velo. Aggiungo una bustina di bolero alla panna, ma va bene anche qualsiasi tipo di aroma mi possa piacere. Aggiungo man mano la farina di riso con il setaccio in modo tale da togliere tutti i grumi. Vado un po' per volta fino a raggiungere la dose indicata. A questo punto aggiungo la farina di bambù, voi se non ce l'avete potete aggiungere l'amido. In ogni modo vi lascio in descrizione il link dove acquisto la farina di bambù. A questo punto in ultimo vado ad aggiungere la ricotta e poi mescolo sempre con le frusse elettriche. Ne aggiungo sempre un po' per volta e poi amalgamo bene. L'impasto deve risultare quasi come una crema. Adesso io lo assaggio e vado ad aggiungere la cannella perché ho deciso di fare la torta al lotus. Ripesso lo stampo per torta, questo è molto alto, con la carta forno bagnata. Verso l'impasto e poi faccio cuocere tutto in forno. Ecco il risultato, ora la vado a decorare. Ho fatto sciogliere la crema a bagnomaria e la verso direttamente sulla torta. Poi la faccio scendere un po' sia per insaporire anche i bordi sia per creare una decorazione a cascata. Vado a sbriciolare in superficie un biscottino della lotus. In questo modo avremo anche quel tocco crunchy e poi è bello anche da vedere. Il risultato sarà una torta diversa dal solito perché all'interno è molto molto scioglievole. Io spero che questo video e questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio video. Detto ciò vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!